Oscar, un successo di squadra e un terzo posto che dà morale? Sì, diciamo come giornata è stata perfetta, il mio terzo posto ma più che altro la vittoria di Sant'Ambrogio, sono veramente contento per lui perché ormai fuori di secondi posti mi dispiaceva anche perché ho visto che pedalava veramente in modo eccezionale. In prospettiva giro diciamo che tutta la squadra gira bene, c'è un bel affiatamento e quindi questa vittoria e magari anche il mio piazzamento serve per il morale e per tutto. Oscar, il finale, in fuga c'era Sinchiriz insieme a Sant'Ambrogio, dietro voi a controllare però con la consapevolezza che magari in caso di arrivo allo sprint Oscar Gatto poteva dire la sua, come vi siete accordati, cercare di contenere oppure cercare un pochino anche di poterli raggiungere in quanto Sinchiriz poteva diventare anche pericoloso? No, noi siamo stati lì, insomma abbiamo controllato anche perché non era lavoro nostro, visto che c'erano due o tre uomini dell'Androni e ho visto anche altre formazioni che erano più di uno, quindi sicuramente il lavoro non era nostro. Ho avuto un grande Luca che ha fatto sia il ritmo sull'ultima volta a San Baronto sia dopo mi ha portato qui in volato in modo perfetto. Diciamo che dai, tutto quanto dall'inizio alla fine ha girato in modo perfetto.